Manca l'autorizzazione e slitta la costituzione del gruppo della Lega in Consiglio, ma per la consigliera di riferimento non serve alcuna autorizzazione, visto l'articolo 11, per il regolamento del Consiglio Comunale. E così il caso finisce sul tavolo del prefetto. Trovo il mancato riconoscimento della costituzione del gruppo Lega Salvini Premier Sulmona da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale, una grave scorrettezza istituzionale. A grapparsi, a cavilli burocratici inesistenti, solo per il gusto di mettere i bastoni tra le ruote, a chi è stato eletto, democraticamente inaccettabile, interviene la Salvatica e per il tramite del coordinatore regionale della Lega ha chiesto l'intervento del prefetto dopo la mancata costituzione del gruppo consigliare Lega a Palazzo San Francesco. Allora, noi abbiamo fatto richiesta formale al Presidente del Consiglio, ricalcando poi quella che è il regolamento per le commissioni del Consiglio Comunale. Non c'è nel regolamento alcun riferimento in merito ad un'autorizzazione che debba arrivare da un regionale o dal nazionale, ma nonostante ciò, proprio perché comunque noi condividiamo tutti insieme come una squadra il percorso, non è tardato ad arrivare anche l'autorizzazione che abbiamo prontamente inviato tramite PEC. Quindi tutti i passaggi formali sono stati fatti nella correttezza, però è stata presa questa decisione in fausta purtroppo che va contro il regolamento di fatto. E per questo abbiamo dovuto avvisare nell'immediato il prefetto dell'accaduto, perché almeno lui possa fare chiarezza sulla questione e sulla vicenda, infelice.